Secondo alcuni analisti, il Monte dei Paschi di Siena potrebbe salvarsi fondendosi con altri istituti bancari come Unicredit e il Banco Popolare di Milano. Privatizzare la banca porterebbe, in termini di filiali, alla nascita del principale operatore italiano. A questo si aggiunge un aumento di capitale da 2,5 miliardi che potrebbe essere sottoscritto dal Tesoro, oggi azionista del gruppo al 64,23%, solo nel caso di una fusione con un altro istituto. Sul fronte opposto troviamo la Regione Toscana, contraria alla privatizzazione e sostenitrice del Tesoro nel mantenere la guida della banca. La banca è in una condizione tale per cui non può più andare avanti da sola e quindi è evidente che un'aggregazione nella forma tecnica preferita, che potrebbe essere quella appunto dell'acquisizione, debba necessariamente arrivare. Tra due visioni contrapposte però potrebbe esserci una soluzione intermedia. Si tratterebbe in sostanza di vendere la maggior parte degli asset appunto a banca Unicredit, mantenendo un ramo d'azienda, quella che viene appunto chiamata la mini Monte dei Paschi di Siena, con le filiali e parte del corpo dipendente in Toscana. In definitiva, a mio giudizio, quella soluzione di compromesso circa la costituzione di una mini banca Monte Paschi, potrebbe costituire effettivamente una terza via che consenterebbe di contemperare gli interessi della politica, che ha giustamente interesse a tutta quella che è la socialità della banca Monte dei Paschi, la territorialità della banca Monte dei Paschi, con quella economico-finanziaria di una necessaria acquisizione da parte di un istituto che la ricapitalizzi e la faccia ritornare agli antichi fasti.